Crema sempre più turistica e smart, grazie al progetto diventato un portale Smart Crema, che utilizza le nuove tecnologie al servizio della città. Con il QR code, ovvero un codice a barre, posizionato accanto ai principali monumenti cittadini, chiese, palazzi, chiostri, si può leggere attraverso un qualsiasi smartphone la storia sintetica dei vari monumenti, corredata da fotografie e indicazioni di itinerari turistici, contrassegnati da simboli diversi, tutti ispirati ai quattro elementi naturali, acqua, terra, aria, fuoco e disegnati nei loghi dall'artista cremasco Gilmacchi. Attraverso questo portale, attraverso i personali device, cioè telefonini, iPad, si può fare una breve scansione del QR code di fronte a ogni monumento e così accedere ai contenuti del monumento stesso. Sono state fatte delle schede abbastanza rapide, proprio utili a una consultazione veloce, che comunque merita anche il suo approfondimento perché si può sempre andare sul sito e entrare in uno dei quattro itinerari e comprendere quindi anche come i monumenti sono legati uno all'altro e alla storia della città stessa. Smart Crema è un progetto frutto della collaborazione tra Comune, Rotary Club San Marco, che lo ha finanziato, l'associazione Il Ghirlo, che ha redatto le schede con i contenuti, e Davide Severnini, che ha curato la grafica. Su tutti i dispositivi è possibile installare un'app, si va nel proprio App Store, si scarica un'app, ce ne sono numerosissime, si installa, si apre l'app, ci si avvicina ovviamente e si scansiona il codice. Appena avvicino mi compare un link, premo sul link e questo è il link di rimando al sito dove è indicata la scheda del Duomo che sto scansionando. Una vera e propria guida turistica che accompagna lungo le vie della città, facendo scoprire storia e bellezza non solo ai turisti ma anche ai cittadini cremaschi che spesso non conoscono il luogo in cui vivono. Ne abbiamo cinque solo qua nella piazza del Duomo, che naturalmente è un luogo, è proprio il cuore della città, poi così nei desideri sia nostri che del Rotary c'è l'idea di proseguire facendo delle traduzioni e poi anche magari di dare un sussidio per i bambini, per esempio cercando i leoni, cercando gli stemmi, delle cose così che possono avvicinare l'autonomia del visitatore al monumento stesso.